Nessun trasferimento a rende degli operatori call center di Almaviva che a Palermo erano impegnati nella commessa Enel passata ad Ex Privia. Al Ministero per lo Sviluppo Economico è stato raggiunto l'accordo. Chi era presente al tavolo e come si è arrivati allo sblocco della trattativa? C'erano ovviamente le parti in causa che erano le due aziende, Almaviva e Ex Privia, oltre alle rappresentanze sindacali dei lavoratori coinvolti in questa operazione. Per fortuna la spinta che le organizzazioni sindacali hanno messo in campo, perché c'è uno show pro all trans messo in campo sia a Palermo che a Rende per evitare e scongiurare questi trasferimenti, hanno fatto sì che le due aziende riuscissero a trovare un accordo affinché riprendessero piede anche questi lavoratori che erano rimasti fuori dalla prima tranche e oggi anche loro passano con Ex Privia. Abbiamo scongiurato dei trasferimenti da Palermo a Rende che in buona sostanza significava solo licenziamento, perché a distanza di 600-700 km da casa con 700 euro di stipendio un trasferimento voleva dire solo licenziamento e per fortuna siamo riusciti a salvarli.